Ciao a tutti ragazze e ragazze, dopo diverse settimane di lockdown e di quarantena passata a casa, dove appunto l'hashtag a farla da padrone era Io resto a casa, il paese sta andando sempre di più verso la riapertura. Ma non sarà facile ritornare alla normalità se non verrà ripensata la mobilità urbana, che ci permetterà di muoverci in tranquillità, in sicurezza e soprattutto rispettando il distanziamento sociale per i prossimi mesi. Ho quindi deciso di invitare alcuni ospiti che hanno una proposta molto concreta da fare alle nostre città e amministrazioni comunali e ho scambiato due chiacchiere con loro. Eccoci arrivati alla seconda parte di questa serie di incontri dove andiamo a fare due chiacchiere insieme ai personaggi che stanno portando avanti l'iniziativa di questo piano di mobilità di emergenza per sviluppare percorsi ciclabili o comunque per ampliare quella che è la mobilità sostenibile, quindi l'utilizzo della bicicletta o di altri mezzi leggeri alternativi all'automobile e soprattutto ai mezzi di trasporto pubblici. Se nella precedente chiacchierata abbiamo parlato con Paolo Pinsuti che è il promotore di questa proposta, oggi invece parliamo insieme all'architetto Matteo Dondè. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. Matteo tu sei architetto da vent'anni e lavori da tanto tempo nella mobilità ciclistica e soprattutto nella cosiddetta zona 30. quindi volevo parlare con te in termini molto pratici, proprio scendendo proprio negli aspetti più pratici. La proposta di Bike Italia è molto bella perché a noi tutti appassionati di bicicletta sembra un'ottima soluzione rispetto a quella che è la situazione che tutti stiamo vivendo. Ma come possono, diciamo, gli architetti, comunque chi pianifica, chi lavora nell'urbanistica, può portare a pedalare persone che magari in bici non ci sono mai andate e magari hanno anche paura di utilizzarlo? Insomma, quali sono le principali soluzioni che avete individuato? Allora, prima di tutto c'è da dire appunto, il maggior disincentivo all'uso della bicicletta generalmente è la paura del traffico. Sono gli incidenti e la pericolosità. Quindi il tema che in Europa si sta affrontando ormai da diverso tempo, ma che stanno affrontando veramente tante città, è quello dell'idea della città 30. Cioè noi nelle nostre città dobbiamo ridurre la velocità delle auto per consentire agli altri utenti della strada la mobilità sostenibile, che a me piace chiamare invece mobilità attiva, come fanno i francesi, perché sono attivo nel muovermi a piedi, in bicicletta, anche col trasporto pubblico. Per cui questa è la tendenza che ritroviamo ormai praticamente dappertutto. Tema che noi abbiamo affrontato poco. L'incidentalità stradale ha ancora dei livelli che sono assolutamente un'eccezione in Europa. Abbiamo quasi 3.400 morti l'anno, quasi 300.000 feriti. Stiamo parlando di una strage quotidiana che ci riguarda tutti, compresi gli automobilisti. Muore un automobilista ogni quattro ore sulle strade italiane. Per cui questo è il tema generale che va affrontato e che finalmente dobbiamo affrontare. Il secondo tema, che deriva proprio da questa situazione, dal distanziamento sociale che ci verrà chiesto quando finalmente ci sarà la riapertura, è il problema che se trasferiamo la quota che oggi utilizza il trasporto pubblico sull'auto privata, le nostre città si bloccano. La congestione è totale. Per cui di nuovo riguarda veramente tutti, non solo chi usa già la bicicletta, non solo chi tenda a muoversi a piedi o col trasporto pubblico, ma anche gli stessi automobilisti, quelli che proprio non possono fare a meno dell'automobile perché trasportano merci, perché fanno tanti chilometri, devono considerare che se tutta quella quota che abbiamo visto in Cina, nelle primi studi che sono stati fatti a Wuhan, se è trasferita sull'auto privata, Milano, come tutte le città italiane, si blocca. Si blocca completamente. La congestione diventa la paralisi della nostra città. È per questo che noi abbiamo proposto questa rete di mobilità d'emergenza, in cui la rete ciclabile d'emergenza è una parte, proprio perché vogliamo parlare a tutti gli utenti della strada e non solo a una delle categorie del traffico. Ed è per questo che ovunque in Europa si stanno muovendo in questa direzione, dall'Inghilterra, alla Spagna, alla Francia, all'Austria, alla Germania, tutti stanno realizzando che cosa? Una rete ciclabile d'emergenza, leggera, disegnando delle strisce, togliendo delle corsie alle auto per far andare le biciclette, proprio perché altrimenti le nostre città si bloccano, non c'è proprio possibilità di fare altro. Quindi questa è un'attenzione che dobbiamo assolutamente tenere. Quindi soluzioni leggere. Perché? Perché costano poco? Perché sono rapide da realizzare? Perché riusciamo a implementarli su gran parte delle nostre strade principali, le direttrici di traffico che entrano nella città. A quel punto, sottraendo un po' di spazio all'automobile, riusciamo a farci stare molti più utenti, che siano anche quelli della monopattina elettrica, la bicicletta. Teniamo conto che nella proposta abbiamo inserito anche l'idea dello Stato che finanzi l'acquisto di biciclette elettriche, già ripresa anche dal sindaco Sala. Perché? Perché sono occasioni veramente di consentire il distanziamento sociale e di muoverci. Sappiamo bene, la bicicletta in città è il mezzo più veloce per muoversi. Teniamo conto che in una città come Milano, dati del PUMS, tra il 40 e il 60% dei percorsi fatti in automobile è inferiore ai 3 km. Quindi, in realtà, noi abbiamo sempre fatto un uso eccessivo dell'automobile, siamo il paese con più automobile per abitante, abbiamo 65 auto ogni 100 abitanti, media italiana, Milano è 54 ogni 100 abitanti, paragonati con una città come Parigi o Berlino, che ne hanno 30 ogni 100 abitanti. Quindi partono già da una situazione decisamente migliore. Noi, con questo eccesso di automobili, con questo eccesso di utilizzo dell'automobile, se non interveniamo con urgenza quando riapriamo, i rischi sono palesi e riguardano veramente tutti. Oltre la viabilità principale, il resto del tema è quello che io in realtà porto avanti da 20 anni nel mio lavoro, molti professionisti in Italia portano avanti questo tema, è proprio quello della città 30, cioè i quartieri residenziali. Se noi abbassiamo molto le velocità, consentiamo agli utenti di utilizzare la strada, io parlo sempre nei miei convegni di diamo strada alle persone, proprio perché sappiamo bene che i marciapiedi spesso sono troppo stretti, non abbiamo spazio per realizzare percorsi ciclabili all'interno dei quartieri, se non togliendo sosta, ma sappiamo bene che in Italia se togli due posti di auto rischia di cadere un'intera giunta. L'occasione invece è di intervenire proprio con quelle che in Europa vengono chiamate zone 20, zone de rencontre, cioè condividere la strada. Se l'automobile va volto piano, il pedone può camminare in strada. Qual è il tema? Che i marciapiedi sono troppo stretti, per cui non è possibile assicurare il distanziamento sociale. L'Austria appena ha fatto un intervento, per cui in tutti i quartieri di Vienna, cartelli con limite e velocità 20 e pedoni ciclisti in mezzo alla strada. Ho tante possibilità di realizzare questi interventi, sono tutti interventi a basso costo. Un altro tema che mi preme molto e su cui insisto da tempo, anche criticato da diversi non tecnici. Cioè siamo l'unico paese che realizza l'acciclabile sul marciapiede, che realizza l'acciclabile togliendo spazio ai pedoni. Questa è l'occasione per dire basta a queste porcate, che creano conflitto tra gli utenti deboli della strada senza mai toccare lo spazio dell'automobile. L'acciclabilità va fatta a discapito degli spazi dell'automobile, non degli spazi dei pedoni. Quindi tu pensi che in questa situazione, cioè proprio scendendo all'atto pratico, una delle prime iniziative, una delle prime cose da fare sia quello di togliere spazio all'automobile. Ti chiedo magari di farmi un paio di esempi pratici, io poi inserirò le immagini nel video, su come questo può essere realizzato nella maggior parte delle città italiane. Certamente, se partiamo dalle grandi città abbiamo molte direttrici di traffico che entrano in città con due o tre corsie per senso di marcia. Vuol dire sottrarre una delle corsie per dedicarla completamente ai ciclisti, monopattini e tutti i veicoli elettrici. Per cui tolgo un pochino di capacità alle automobili, ma che sappiamo che altrimenti si blocca la città, per dare invece dei corridoi molto veloci agli altri utenti della strada. Posso aprire le corsie bus riservate agli utenti attivi, di nuovo bicicletta, bicicletta elettrica, monopattini, eccetera. Posso, in determinate situazioni, non sono molte le città, ma Milano, Torino, Roma, le strade che hanno i controviali. Lascio il controviale centrale dell'automobile e dedico invece i controviali agli utenti attivi. In realtà molte delle nostre strade in Italia, perché abbiamo lavorato troppo poco sulla moderazione del traffico e sulla sicurezza stradale, sono a una corsia per senso di marcia, ma una corsia molto ampia. Spesso, per intenderci, anche a Milano abbiamo corsie a senso unico per le auto che sono larghe 4-5 metri. Considerate che una corsia autostradale, che è fatta per andare a 130 all'ora, è larga 3,75 metri. Per cui è uno spazio eccessivo, che è poi quello che consente l'auto in doppia fila, regolare, che consente tutte quelle forme di illegalità sul traffico, che io tendo a dire abbiamo ormai in Italia accettato socialmente l'illegalità nel parcheggio, eccetera. Quelli sono tutti spazi che noi possiamo recuperare per la ciclabilità. L'altro tema, ad esempio, visto che ho citato la sosta, è la sosta illegale, che in Italia è quasi la normalità, sono tutti disposti a dire ma le quattro frecce sono solo 5 minuti, ma sappiamo bene che girare per le nostre città i marciapiedi spesso sono diventati dei parcheggi. Vuol dire togliamo tutte le auto dai marciapiedi, perché dobbiamo assicurare la distanziamento sociale anche tra i pedoni. E quindi vuol dire togliere tutta l'illegalità che caratterizza le nostre città, recuperare quella civiltà che caratterizza le città del nord. Io da sempre mi sento dire ma loro sono diversi, da noi non è replicabile quel modello. Io sostengo che invece lavorando su questi temi, facendo cultura, comunicando queste cose, possiamo cambiarle anche noi. Lo sta facendo la Spagna in maniera eccezionale. a quel punto questo significa quindi sulle strade come un Fulvio Testi Viale Zara dove ho tre corsie per senso di marcia che entrano più controviale. Io una di quelle corsie la posso dedicare dall'oggi a domani alla ciclabilità. La proteggo con dei birilli all'inizio perché a basso costo e poi pian piano vado a modificare la città. Ma in questa maniera mi assicuro dei corridoi di traffico soprattutto a sostituzione della metropolitana. La metropolitana verrà riaperta ma il distanziamento sociale vorrà dire molte meno persone che riescano a utilizzare contemporaneamente il mezzo metropolitana. Tutte quelle persone rischiamo di averle in superficie in automobile. Dobbiamo assicurare lungo questi corridoi che si possa percorrere. Ribadisco, la bicicletta elettrica io spesso mi sento dire ma io devo fare 4-5 km non posso mica arrivare a lavoro sudato a parte che abbiamo vari mezzi vado in bagno mi porto una maglietta di ricambio un asciugamano i mezzi li abbiamo però abbiamo anche dei veicoli elettrici che ormai costano decisamente meno di qualche anno fa che sono diventati decisamente più agili anche la bicicletta pieghevole elettrica quindi riesco magari a usare un mezzo pubblico per poi fare gli ultimi chilometri questo ci consente veramente in una città siamo a Milano parlo di Milano ma tendenzialmente a parte Roma che è la vera grande città in Italia per il resto io abito nella prima periferia milanese fuori dai confini sono in centro in Duomo in mezz'ora di bicicletta quindi le nostre distanze non sono quelle di una megalopoli per cui sono tutti i percorsi che possiamo fare come convincerli lavorando sulla sicurezza stradale sul controllo sulla riduzione che ti volevo chiedere ok convincere i cittadini ma le amministrazioni comunali come si convincono invece nel senso che voi tra l'altro in maniera molto intelligente secondo me avete fatto anche un piano di spesa ipotetico per queste corsie di emergenza questo piano di emergenza perché comunque lo ricordiamo e lo ricordavi anche te togliere spazio alle auto comunque effettivamente fa perdere voti questa è una cosa molto ben risaputa che tipo di consiglio ti senti di dare ad un'amministrazione comunale come architetto per sviluppare un piano di questo tipo quali sono gli step da seguire secondo te e come considerare questo budget di spesa parto dal budget di spesa noi nel manuale l'abbiamo messo tra l'altro ribadisco il fatto che ogni soluzione che abbiamo inserito all'interno del manuale è a norma per cui non stiamo chiedendo di andare oltre quella che è la normativa italiana sono tutte soluzioni già adottabili lo possiamo fare in emergenza quindi tenendo delle strisce gialle di cantiere non delle strisce bianche proprio per far capire che è una soluzione di emergenza che poi nel tempo verrà sistemata riadattata riqualificata eccetera il costo che abbiamo considerato visto che sostanzialmente si parla di disegnare delle corsie quindi delle strisce di larghezza 12 centimetri di utilizzare delle protezioni mobili quindi comunque a basso costo il costo si aggira attorno agli 8.000 euro a chilometro 8.000 euro a chilometro è pochissimo per una città considera che una pista ciclabile separata costa circa 250.000 euro al chilometro per cui stiamo parlando di cifre ridottissime il vantaggio è di poterla realizzare veramente velocemente io come step consiglierei appunto quello di individuare le principali direttrici dove io voglio che il grosso del traffico di persone non di traffico di automobile entri in città e sai una rete ciclabile ben fatta deve appoggiarsi ai principali attrattori di traffico cioè dove la gente è diretta sappiamo bene che ad esempio per Milano ma vale per molte città il grosso del traffico arriva da fuori quindi l'idea è fermarli ai parcheggi di interscambio lascio l'automobile e da lì consento al cittadino di muoversi in maniera alternativa quindi il primo step è realizzare questa serie di percorsi a grossa capacità per cui io ho realizzato ho fatto il biciplan di Reggio Emilia ormai già più di dieci anni fa che ha portato la ciclabilità quasi al 30% abbiamo realizzato diverse corsie ciclabili perché la corsia ciclabile è una soluzione che in Italia si ha paura a realizzare perché non abbiamo lavorato sulla sicurezza del traffico perché consentiamo alle automobili di andare a 80 all'ora in città per cui è chiaro che la pericolosità della strada rimane una sensazione ovviamente ovviamente perché è veramente pericolosa ma se iniziamo a controllare seriamente le velocità se impediamo di superare i limiti di velocità la corsia ciclabile è assolutamente sicura e anzi spesso è più sicura della separazione quando abbiamo molti conflitti laterali per cui lungo queste direttrici corsie ciclabili d'emergenza larghe capaci e nel resto dei quartieri quello che dicevo intervenire invece con l'idea delle zone 30 che in una città come Milano sono già state individuate in gran parte nel PUMS serve l'attuazione e l'attuazione è molto semplice perché bastano anche in questo caso interventi veramente leggeri posso chiudere una strada con una fioriera per cui l'automobile non può più attraversare il quartiere mentre i ciclisti e pedoni lo possono fare posso usare una soluzione come il cuscino berlinese che è stato consentito l'utilizzo dal ministero dei trasporti a fine anno qualche amministrazione lo sta già sperimentando sono soluzioni a bassissimo costo realizzabili molto facilmente perché sono degli oggetti che vado semplicemente a inchiodare nell'asfalto ma che impediscono alle auto di andare più forte dei 30 km orari posso fare delle deviazioni posso fare tanti interventi inutili entrare poi troppo nel dettaglio ma in questa maniera consenta all'interno dei quartieri di muoversi in sicurezza e col distanziamento sociale che ci richiedono sia pedoni che ciclisti che tutte le persone che vogliono muoversi per raggiungere i luoghi di lavoro o il luogo dove c'è il trasporto pubblico dove c'è il bike sharing dove ci sono gli strumenti per muoverci all'interno delle città in maniera sostenibile va bene Matteo allora ti ringrazio perché secondo me questo è chiaramente una possibilità per le città italiane come noi abbiamo preso ad esempio Milano perché siamo chiaramente di questa zona però è una possibilità veramente per tutte le città italiane per a seguito di questa emergenza intervenire in modo rapido economico ed emergenziale per garantire comunque il diritto alla mobilità e all'efficienza perché questa comunque è la tematica bisogna ritornare a riattivare il paese e si può farlo e si deve farlo in sicurezza utilizzando tutte queste soluzioni che sono state proposte nell'RME che vi ricordo che potete scaricare in descrizione trovate il link è gratuito qualora ci fosse qualche altra domanda Matteo dove possiamo contattarti dove possiamo andare a vedere un po' il tuo lavoro so che tu hai un sito sì ho il mio sito che è www.matteodonde.com ho la pagina facebook molto attiva parlo sempre di questi temi account twitter mi trovate con il mio nome sui vari social consentimi di terminare con una con una considerazione cioè quello che noi abbiamo proposto in questo manuale quello di cui ho parlato è in realtà quello che viene fatto da 50 anni a questa parte nelle città che consideriamo belle perché ci piace Amsterdam ci piace Copenhagen ci piace Berlino loro queste soluzioni di cui ho parlato le stanno attuando da 50 anni a questa parte noi abbiamo l'occasione partendo molto tardi arrivando molto tardi di approfittare di questa tragica situazione per adeguarci a un modello che abbiamo visto che funziona non dobbiamo tra l'altro inventarci nulla perché è un'attenzione che dobbiamo avere per non perdere un'occasione per finalmente arrivare a quei livelli io dico sempre di Amsterdam ci sono tornato a dicembre dopo un po' di anni forse dalla tesi a me che colpisce di Amsterdam non è tanto la presenza di ciclisti è il silenzio nelle strade sono occasioni che abbiamo visto in questi giorni nelle nostre città un silenzio che non conosciamo una qualità dell'aria che non conosciamo per cui oggi abbiamo parlato di mobilità ma la mobilità comporta diverse situazioni a cui ci siamo abituati ma che apprezziamo quando andiamo all'estero nelle altre città se le apprezziamo altrove proviamo anche noi ad adottarle perché ci guadagniamo tutti non solo i ciclisti è assolutamente vero concordo concordo ho visitato anche io alcune delle città che no beh tutte le città che tu hai nominato e la differenza è palpabile possiamo farcela ad adottare anche noi questi modelli che abbiamo visto che funzionano ci sono vari step da seguire però io sono convinto che ce la possiamo fare sono un inguaribile ottimista ci proveremo e ce la faremo spero che ce la faremo quindi grazie ancora Matteo di questa chiacchierata grazie a te buon lavoro e speriamo finger crossed in questa mobilità più sostenibile anche se solo per emergenza chissà che non diventi un po' più stabile un saluto a tutti ciao 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 ciao